Grazie Presidente. Vorrei far presente al mio collega che il Ministro Lupi non può essere in aula perché in questo momento sta visitando, come ho preso dai giornali, il cantiere del TAV di Chiomonte. E' un tema a noi piemontesi molto caro perché fare quell'opera è bruciare un quantitativo di denaro impressionante per un'opera totalmente inutile, visto che ce n'è un'altra praticamente identica da lì a poca distanza che semplicemente trasporterebbe gli ortaggi a una velocità un pelino più rallentata. Non solo un'opera inutile, ma è un'opera ad altissimo rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, tant'è che io più volte ho sollevato perplessità in merito al rischio di mancata attuazione della normativa antimafia nella sezione trasfrontaliera. Ora, sollevato in Commissione antimafia, sollevato in affari costituzionali, i Ministri vengono a rispondere, ma di fatto nessuno ci sa dire per certo se verrà applicata o no questa normativa. Se questo per voi è un modo logico di gestire il denaro pubblico... Grazie.